Ciao e buongiorno a tutti voi! Io oggi sono venuta in un posto dove volevo assolutamente fare una diretta, si chiama Sentiero dello Yoga, qua vicino a casa mia di nuovo, dove ci sono, diciamo, un sentiero circolare, iniziando con il suono dell'OM, poi per arrivare a contemplazione e finale di Savasana. Allora, io penso sempre che lo yoga è uno strumento per tanti per mantenersi fisicamente, dal mio punto di vista invece è proprio uno stile di vita, per cui specialmente in un bosco come in questo momento che si può fare un percorso di yoga lo trovo molto bello e molto interiore, non che non si potrebbe fare anche altro, però ne avete capito. Allora io adesso volevo mostrare proprio il finale perché mi piace tantissimo come l'hanno costruito, girerò la camera, guardate, hanno costruito sull'albero per poter fare la Savasana, cioè proprio rilassamento e da questa parte invece un'altra asana, guardate, meraviglioso, proprio per sdraiarsi qua, mettere su qua le gambe e rilassare la schiena. Wow! E poi quello che ancora, questo io farò dopo, ma quello che volevo ancora mostrarvi, guardate che bello tutti questi segnali, ecco qua, per il rilassamento finale, bellissimo. E ora concluderò con voi perché qua c'è una scatola. Questa scatola, wow, mantiene un quaderno dello yoga e io adesso per tutti noi, che bello, mi è arrivato anche il sole, aprirò una pagina perché guardate ce ne sono tantissime scritte dentro, chiedendo all'universo magari qualcosa che c'è scritto per, che può essere interessante per tutti noi. Allora... wow, guardate il disegno, è bellissimo! Allegra, che potrebbe essere un nome come anche un messaggio, sicuramente cuori, ti dai bambini, però questo mi piace tantissimo perché l'altro giorno le guide parlavano del vortice. Questo movimento è proprio, dal mio punto di vista, anche molto importante. Il vortice, le guide parlano, che parte proprio dal nostro centro, dal nostro centro e va praticamente includere tutto il corpo, poi va in connessione con altri vortici che ci sono attorno a noi, se stanno detto le guide dopo. Allora, io vi ringrazio come sempre che guardate il video anche per questo messaggio. Adesso lascerò anche io qua qualcosa scritto e ci vediamo prestissimo. Un grande abbraccio a tutti voi, ciao!